Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pesto al tonno con olive e peperoncino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Ingredienti sono tonno sott'olio sgocciolato, mandorle pelate, pomodori secchi, olive nere, prezzemolo, parmigiano, peperoncino e olio. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano, il prezzemolo, il peperoncino e le mandorle. Ed azionare il bimbi per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spadola. Aggiungere il tonno, i pomodori secchi, le olive, e l'olio. Ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 8. Il pesto è pronto. Trasferire in una ciotolina di vetro. Pesto al tonno con olive e peperoncino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!